Per una settimana Extra Liguria si sposta a Savona in trasferta anche per parlare delle prossime elezioni amministrative. Una trasferta per iniziare a scoprire quello che è l'universo culturale della città della Torretta. Una trasferta per iniziare a conoscere gli sportivi di questa città. Extra Liguria. Tutta la Liguria che vuoi.